Buonasera a tutti, questo pomeriggio siamo in Viale Europa, angolo Viale Beethoven, dove prosegue la raccolta firme promossa dal Comitato Fibromialgici Uniti per chiedere il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante. Insieme a Carla Petroni e a tante amiche, siamo qui per il riconoscimento di diritti importanti. E allora, fibromialgia! Approntiamola insieme!